Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di un evento importante che ci sarà lunedì prossimo a Chieti e lo facciamo con il magnifico rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio, Liborio Stuppia. Buonasera Professor Stuppia, bentornato nei nostri studi. Buonasera, bentrovati. Allora, dicevamo, magnifico, che c'è una novità nelle consuetudini dell'Università D'Annunzio che è quella di conferire l'ordine della Minerva non in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico ma in un evento particolare e significativo dal punto di vista simbolico che si terrà lunedì presso il Teatro Marruccino di Chieti. Ecco, perché questa scelta, poi parleremo naturalmente dei premiati, sono nomi di assoluto rilievo? Ma la scelta l'abbiamo fatta perché abbiamo deciso di separare i due eventi. Quello dell'inaugurazione dell'anno accademico diventa un evento istituzionale dell'Università segnato dagli interventi degli studenti, del personale amministrativo. Quest'anno abbiamo avuto il Ministro ed è la cerimonia che stancisce l'inizio dell'attività dell'Università. La Minerva è un momento di celebrazione che vogliamo aprire alla cittadinanza proprio per questo abbiamo scelto di portarla al Teatro Marruccino che è una location splendida e di dare l'ingresso libero alla cittadinanza che così potrà avere la possibilità di vedere questo che sarà anche uno spettacolo perché ci sarà anche musica oltre alle relazioni dei tre premiati che sono persone di altissimo livello e che vale la pena anche ascoltare nel loro discorso. Bene, quindi non una cerimonia che è chiusa alla comunità universitaria ma una cerimonia che si apre all'opinione pubblica perché quello che sarà detto, quello che sarà insomma anche il contenuto reale che poi ha spinto le motivazioni al conferimento di questi riconoscimenti riguarda l'attualità in particolare sui temi dell'economia in questo caso ma anche della salute. La prima dei premiati è davvero un personaggio straordinario. Suora Alessandra Smerilli che è la segretaria di Castero Vaticano per il servizio dello sviluppo integrale, sviluppo umano integrale. Ecco, perché questa scelta così forte, così simbolica? Suora Alessandra Smerilli è venuta già da noi all'università qualche mese fa nell'ambito di un incontro con Sua Eccellenza Monsignor Forte e io sono rimasto molto colpito dalle teorie di economia veramente innovative che portava avanti e dal suo linguaggio molto diretto, molto semplice. Ho pensato che sarebbe stata una splendida testimonial per far capire come in questo momento da un lato è necessario che un po' tutti acquisiamo delle conoscenze d'economia dall'altro che c'è un modo molto diretto per far capire quanto è importante questa disciplina e io penso che chiunque l'ascolte rimarrà incantato. L'altro premio all'ordine della Minerva riguarda, qui siamo un po' più nel suo campo anche professionale, il professor Giuseppe Novelli ordinario di Generica America già rettore dell'Università Tor Vergate, insomma un'assoluta autorità accademia. Sì, diciamo che un doppio collega come genetista, oltre che un grande amico e come ex rettore, ma Giuseppe Novelli ha una caratteristica su di lui, gli ha dedicato un editoriale Nesher a dimostrazione che in Italia una persona che ha fatto il rettore poi può tornare a fare scienza perché lui finito il suo mandato qualche anno fa ha ricominciato a fare ricerca, ha pubblicato ad altissimo livello ed è diventato quasi un caso mondiale. è una persona di altissimo profilo scientifico e anche di altissimo profilo umano che sono molto contento di portare a Chieti. E poi c'è un personaggio, anche questo di rilevo nazionale e internazionale del mondo della farmaceutica che raramente è presente in eventi così pubblici, che Sergio Dompe, membro onorario del corpo accademico, diventerà da lunedì prossimo. Sì, perché lui aveva già ricevuto l'onoreficenza della Minerva alcuni anni fa, gli abbiamo voluto dare questo titolo che è importantissimo, diventa un membro onorario del nostro corpo accademico perché Sergio Dompe ha fatto tantissimo per la ricerca farmacologica. Anche in Abruzzo? Soprattutto, e tra l'altro vorrei dire che c'è un fil rouge che unisce tutti e tre perché Giuseppe Novelli ha casa, ha famiglia Gissi, sua Alessandra è divasto e Sergio Dompe ha lavorato tanto in Abruzzo. A me farebbe piacere che anche in futuro la Minerva avesse questa vocazione di riconoscere chi è legato in qualche modo al territorio ma che ha fatto cose grandi poi fuori. Intanto l'importante è dare questo segnale di allargamento alla città di Chieti e all'opinione pubblica. Abbiamo parlato di Chieti, vogliamo parlare anche di Pescara perché ci sono novità importanti in arrivo sul fronte di Viale Pindaro che era uno dei temi su cui lei sin dal primo giorno da Rettore ha deciso di spendersi. Sì, sul Viale Pindaro abbiamo già lanciato una progettualità molto innovativa. Nel giro di pochissimo avremo la biblioteca per gli studenti che è stata semplicemente la trasformazione di un edificio che è un'altra destinazione e poi c'è una progettualità per lo sviluppo edilizio per creare il Politecnico che è una struttura che a noi manca. Nel frattempo riprenderemo anche i lavori allo Stella Maris di Montesilvano dove soltanto per problemi burocratici abbiamo dovuto interrompere per alcuni mesi l'attività di ristrutturazione di Stella Maris e anche lì tra pochi giorni ci saranno dei pannelli dove dall'esterno si potrà vedere come diventerà all'interno Stella Maris che sarà un museo metaverso del mare molto interessante. E ad oggi l'Università d'Annunzio nel suo complesso organizzativo o poi parleremo della vostra attività principale che è quella scientifica però oggi la competitività si vive anche sul fronte dei servizi offerti agli studenti che cosa offre e che cosa si propone anche di incrementare nel corso dei prossimi mesi per arrivare all'inizio del nuovo anno accademico con un'offerta ancora più valida? Noi abbiamo ricevuto proprio di mattina dei dati di ranking su come ci posizioniamo noi siamo tra le 7-8 migliori università d'Italia per quanto riguarda la no tax area cioè il numero di studenti che non pagano affatto le tasse da noi, lo voglio ribadire, più di metà dei nostri studenti non pagano le tasse è chiaro che per noi questo è un forte sforzo economico ma permette il diritto allo studio a tantissimi abbiamo risolto con la regione il problema delle borse di studio dei famosi idonei non beneficiari che dovrebbe essere risolto definitivamente dobbiamo assolutamente sul territorio sviluppare la politica dell'edilizia per gli alloggi universitari, sono ancora pochi ma su questi ci sono degli incentivi governativi noi stiamo lavorando, io penso che noi dovremmo arrivare ad avere un paio di migliaia di posti letto per gli studenti in modo da attrarre il più possibile le persone che vengono da fuori e veniamo all'offerta formativa alla qualità anche scientifica del lavoro che in questi anni tutto il personale docente dell'università d'Annunzio sta portando avanti con pubblicazioni a livello internazionale con progetti di ricerca che vi coinvolgono a livello mondiale lei è soddisfatto di quanto si sta facendo e soprattutto raccoglie anche come si dice la customer satisfaction da parte degli studenti? allora io per definizione non mi accontento mai però diciamo che in linea di massima stiamo lavorando molto anche per cambiare l'offerta formativa e aprire dei nuovi corsi accattivanti dall'anno prossimo partirà una magistrale per le biotecnologie che è un tema importante una sui temi storici e un'altra sulla fisioterapia ma vorremmo poi lanciare dei nuovi corsi che sono molto in questo momento importanti per l'immissione degli studenti nel mondo del lavoro e questa sarà l'iniziativa più importante che vorremmo fare anche dare la possibilità a spese nostre di fare dei terrucini all'estero in aziende importanti fare in modo che lo studente venga preso in carico e che non debba uscire dall'università e poi cercarsi il suo futuro ma che venga già incanalato verso un futuro professionale ben delineato questo è il grande sforzo che stiamo facendo Nello specifico abbiamo delle novità in corso che possono interessare soprattutto gli studenti che ora vivono, i maturandi che vivono la fase dell'orientamento appunto rispetto alle loro scelte? Ce ne sono tante allora per l'anno prossimo aumenteremo grazie anche a una legge nazionale il numero di ore di didattica che potremo svolgere a distanza il che vuol dire che ci sono tutta una serie di categorie in possibilità di seguire in presenza ma noi potremo arrivare al 20% della didattica erogata a distanza e questo sarà molto importante daremo appunto la possibilità a degli studenti di fare dei terrucini all'estero seguiti da aziende che poi li accoglieranno ma ci stiamo anche occupando molto della fase del benessere degli studenti abbiamo un servizio di counseling psicologico che si sta espandendo sempre di più perché noi abbiamo di fronte una generazione molto fragile ma stiamo pensando anche all'università indispensabile all'aspetto dello star bene oltre che del benessere nelle serate di giugno partirà un'iniziativa che prenderà il nome di Thanks God is Friday, grazie a Dio venerdì e ogni sera del venerdì ci sarà un evento per gli studenti che andrà dai DJ set un concerto su Fabrizio D'Andrea e altre cose quindi cercheremo anche in qualche modo di far diventare il campus un luogo accogliente per i momenti di svago dei ragazzi Ecco appunto, proprio rivolgendosi ai maturandi a coloro che stanno facendo le scelte insomma questa prima esperienza con i nuovi test d'ingresso in medicina abbiamo sempre parlato in termini negativi purtroppo lei l'ha vissuto anche da direttore delle scuole questo problema, questa difficoltà si sta migliorando insomma questa dinamica che vedeva sempre l'accesso all'università come momento di grande sofferenza soprattutto per questi giovani che avevano e hanno una sincera vocazione medica magari stimolata proprio dalle difficoltà che sono state vissute negli ultimi anni con il Covid Questa è una tematica molto importante perché da un lato siamo tutti d'accordo che non si può selezionare l'accesso soprattutto in medicina solo sulla base dei quiz dovremmo essere in grado di valutare l'attitudine dall'altro però attenzione perché il sistema che partirà l'anno prossimo ancora è pieno di punti interrogativi ossia se io faccio iscrivere a medicina tutti gli studenti che lo desiderano e da noi storicamente sono più di mille mentre il corso vero e proprio è di 280 studenti circa io ho il problema di dove metterli in che aule metterli e nel proseguio come fargli fare i tirocini eccetera ancora siamo in attesa di indicazioni su questo da parte del Ministero perché ripeto questa parte comincerà l'anno prossimo per adesso ci sono ancora i quiz anche se non c'è più il sistema del talk che è quello che è stato molto contestato comunque io spero che si supereranno i quiz poi ognuno di noi rettori ha la sua idea personale su come si dovrebbe fare sicuramente dobbiamo pensare a una cosa questo è un momento in cui c'è carenza di medici ma a noi servono dei bravi medici non un numero enorme di studenti in medicina che non formiamo bene quindi dovremo assolutamente trovare un equilibrio tra la quantità e la qualità noi dovremo avere più medici bravi immessi nel mondo del lavoro il che vuol dire poterli comunque seguire con cura se sono troppi ragazzi non li possiamo seguire con cura e rischieremo di avere dei medici non preparati però per la selezione è un metodo diciamo un po' più meritocratico e meno randomico ma assolutamente sì soprattutto ripeto l'attitudine fare il medico lo dico in quanto io quello sono non è soltanto una questione di imparare a memoria dei quiz bisogna aver dentro qualche cosa bene io ringrazio Liborio grazie a voi come sempre per una piacevole conversazione credo interessante anche per i nostri telespettatori e soprattutto per i tanti ragazzi che stanno decidendo proprio in questo periodo come orientarsi per il proprio futuro ci vediamo naturalmente lunedì con la cerimonia ripeto per chi si fosse messo in visione ascolto soltanto ora di conferimento dell'ordine alla Minerva della Minerva che si terrà alle ore 18 al Teatro Maruccino di Chieti sarà sicuramente una grande festa ma anche un grande momento di approfondimento di riflessione e diciamo anche di dimostrazione delle grandi capacità di questi tre personaggi che hanno meritato il riconoscimento più alto dell'Università d'Annunzio arrivederci grazie ancora e buona serata grazie grazie